Bene amici, oggi andiamo a provare il Fossil Q Marshall Fa parte di quella categoria di oggetti che ho tanto desiderato, ho tanto aspettato E poi quando mi sono arrivati e ho provato, mi hanno deluso Eh sì, purtroppo è così, ma procediamo con ordine Cosa c'è dentro la confezione? Oltre all'orologio abbiamo le istruzioni dentro e anche il caricabatterie È bello perché è wireless, ricarica a induzione, c'è scritto Fossil anche sul caricatore per capire qual è la parte che va a contatto dell'orologio E sulla parte USB invece c'è un led rosso davvero molto visibile, l'ho caricato in camera da letto e praticamente illuminava un po' tutta la stanza Vedete, si attacca qua al fondello così, fondello che già si fa notare la prima mancanza, ovvero non ha il sensore dei battiti Non ha nemmeno il GPS, ma questo non è uno sport watch, che tra l'altro sport watch su Android Wear non mi hanno mai convinto particolarmente È costruito invece molto bene, si ha il cinturino standard 22mm, quindi si può cambiare tranquillamente anche in maniera rapida Perché ha qua il piccanello per poter sganciare la mollettina È solamente forse un po' duro, però molto resistente, bello marrone È molto bella anche la cassa, completamente in metallo, vedete, diametro 45mm, il display da 1.5 pollici E questa è una delle cose che non è piaciute, ovvero il display E ve lo faccio vedere qua Prima di tutto la luminosità massima non è elevatissima Non ha sensore di luminosità pur avendo, vedete qua, questa mezzaluna oscurata Un po' come il Moto 360, però il Moto 360 aveva un senso, aveva lì il sensore di luminosità Questo non ha il sensore di luminosità, quindi di notte diventa un po' un faro E poi vi faccio vedere il display Guardate, praticamente se lo metto perpendicolare e lo avvicino un po' alla telecamera Si vede bene, se io solo vado a inclinarlo, guardate come diventa praticamente illegibile Veramente un angolo di visuale pessimo E l'orologio, voglio dire, lo guardo un pochino da tutte le angolazioni Non è che devo tenere proprio il braccio così per vedere bene l'ora Invece una cosa che mi è piaciuta sono state le watch face Ce ne sono tante, carine, personalizzate Per esempio anche questa, che fossi il chiama Fred Ma ce ne sono veramente tante altre Anche qua, purtroppo, il display vanifica un po' anche questo sforzo Che è stato fatto sulla personalizzazione Altra cosa che non mi è piaciuta, la qualità della chiamata Sì, perché lui fa parte della nuova generazione di smartwatch Ha il nuovo processore Snapdragon Wear 2100 4 GB di RAM, 500, scusate, 4 GB di memoria Perché possiamo anche andare a mettere dentro delle applicazioni E la musica per ascoltarla poi via wireless, via Bluetooth Quando per esempio andiamo a correre senza portarci lo smartphone E 512 MB di memoria RAM Ha la possibilità di collegarsi ovviamente al Bluetooth audio Allo smartphone e rispondere alle chiamate Oppure effettuarle direttamente dai contatti, dai recenti Oppure con questo tastierino Però vedete, anche qua non è tanto visibile Ma anche i colori sono spenti Insomma, il display proprio non mi ha convinto Allora, 19, no? Manca uno 0 190, non sono riuscito a farlo No, sto facendo il 19 Ci riproviamo E questo vi fa capire come praticamente sia impossibile comporre una telefonata Qua dall'orologio Ha avuto un attimino di defiance Ma swipe a destra si è ripreso Telefono Facciamo che chiamiamo dai recenti Facciamo prima Troppo piccola la tastiera per far sì che si possano fare le telefonate veramente all'orologio Ok, sta chiamando Sì sì, questo è il volume massimo Praticamente io sono nel mio studio in silenzio e faccio fatica a sentirlo Dall'altra parte mi sentono anche dall'altra parte abbastanza male Adesso mettiamo giù la chiamata che avevo messo in pausa Insomma, non dico inusabile ma si può usare solamente in casi veramente di estrema necessità Il vivavoce che era una delle novità che mi era piaciuta tanto nel nuovo Wear 6.0.1 E' impermeabile, il P67 Io ci ho fatto tante docce e vi assicuro l'acqua non è entrata Quanto costa? 299€ Nella media degli smartwatch non tantissimo Il Huawei costa di più Però il Moto 360, seconda versione, ormai costa di meno Qua ci sono delle mancanze Ma quello che veramente non mi è piaciuto è display e la parte altoparlante Mi piace invece che fossi sentrato in questo mercato Perché da costruttore di orologi, la cassa, il bracciale, insomma è costruito veramente tanto bene La prima non è andata benissimo Speriamo, nella seconda Un saluto da Andrea Galeazzi Punto com